Poracci, bentornati o benvenuti sul Porocast, l'unico podcast di YouTube Italia e Internet.poro dove si parla di videogiochi in 40.000. Sono passate parecchie settimane, anche troppe dall'ultimo episodio, ma non è totalmente colpa mia perché in questi giorni ne sono successe di tutti i colori e vorrei sfruttare questa occasione per farvi un po' il riassunto di quelle che sono state le mie ultime settimane, nel bene e nel male. Quali sono i progetti futuri a medio e lungo termine per il canale, partendo poi da una celebrazione così importante come traguardo appena raggiunto e poi vorrei parlare anche di due notizie di attualità che purtroppo non riuscirò a trattare all'interno del TG Poro perché secondo me non si adattano benissimo al contesto un po' più scansonato del mio format per eccellenza. Questi due argomenti sono un po' il punto di chiusura su quelli che sono stati i The Game Awards e la ricezione da parte del pubblico e poi vorrei parlare anche di tutto il casino che sta succedendo a proposito del gioco The Day Before ma anche di quello che secondo me è il vero scandalo che sta accadendo in questi giorni ma di cui non parla nessuno ed è molto più grave di un gioco meme che era destinato a fallire. Ma comunque prima di iniziare e lanciare la sigla vi ricordo che se volete sostenere il progetto della conquista non violenta di internet.for e la fondazione del proverso potete supportare il canale in 10.000 modi diversi molti dei quali sono addirittura gratuiti, potete investire un po' di danaro abbonandovi su YouTube o magari al Patreon oppure anche gesti semplicissimi come un like, una condivisione, un commento o un pensiero prima di andare a dormire mi aiutano enormemente nella crescita sui vari socials. Tra l'altro qualche pazzo ha votato meno di 5 stelle questo porocast su Spotify quindi se siete degli ascoltatori sulla piattaforma verde, porca miseria, votate subito 5 stelle. Bene, oddio, non in senso politico. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Dove eravamo rimasti? Beh, in realtà mi sa che non ci sentiamo più o meno da novembre quindi è passato un mesetto buono ed è successo di tutto. Innanzitutto vorrei ringraziarvi tutti quanti per il supporto continuo in queste ultime settimane, nell'ultimo mese. La Games Week è stata un'esperienza fantastica e penso uno dei momenti più importanti a livello lavorativo proprio della mia vita perché è stato, non me lo nascondo, è stato molto molto emozionante avere un tale riscontro di pubblico rispetto a quello che faccio su internet. È il terzo anno di fila che vengo alla Games Week e se ripenso a come è andato il primo anno rispetto a come è andato l'ultima edizione appena trascorsa beh, c'è veramente un mondo di mezzo e questo lo devo semplicemente a voi che avete creduto nel progetto e continuate a guardare i miei video. Non so se siete arrivati da poco, se ci siete sempre stati però veramente grazie di cuore incontrarvi tutti quanti è stato spettacolare, assurdo e devo dire che poi è stata una fiera proprio cruciale per il mio lavoro perché insomma non solo ho avuto un riscontro di pubblico ma in più ho stretto un po' di contatti, ho stretto un po' di mani e ho consolidato anche il rapporto con i PR Nintendo e insomma se le cose vanno come devono andare il 2024 sarà un altro grande anno per il mio lavoro qua su YouTube anzi per quello che vorrei diventasse un lavoro a tutti gli effetti e ci sono grandi prospettive di crescita ma soprattutto c'è tanto entusiasmo nel continuare ad affrontare questa impresa titanica nel migliore dei modi possibili non mi nascondo ma lo sapete ormai perché comunque lo dico sempre perché per me questo qua è un impegno assurdo perché sostanzialmente lo tratto come un lavoro ma il riscontro economico non è assolutamente quello di un lavoro ma è quello di un hobby non ho mai mollato e in un momento come questo mi sembra ancora più assurda l'idea di mollare adesso la presa e quindi niente volevo farvi sapere che mi avete dato una carica pazzesca la Games Week per quanto poi alla fine sia pure una fiera abbastanza deludente dove c'è veramente poco per quanto riguarda i videogiochi in particolare quest'anno è stata forse la spinta di cui avevo bisogno in questo momento quindi vi ringrazio di cuore tra l'altro assurdo sono stato riconosciuto anche al di fuori del contesto Games Week e questo un po' mi ha impressionato in senso positivo ma insomma prima o poi dovrò iniziare a fare i conti che il canale e realizzare che il canale non è poi più così piccolo io mi sento sempre insomma un po' una persona X che parla in cameretta da solo però forse è il momento di iniziare a realizzare che le cose stanno fortunatamente cambiando e spero che anche nel 2024 abbiate il piacere a continuare a informarvi sul mio canale tramite i miei video sarebbe veramente un onore e in ogni caso grazie mille detto questo però insomma la Games Week è andata una bomba quello che c'è stato dopo forse è andato un pochino peggio perché è stato penso la settimana più brutta della mia vita per ogni punto alto poi c'è sempre un abisso in cui sprofondare purtroppo sono stato malissimo incredibilmente non era Covid mi sono tamponato più volte sono sempre risultato negativo però mi ha presa l'influenza peggiore di sempre febbre altissima quasi a 40 la notte non riuscivo a dormire il giorno stavo proprio uno straccio e ho dovuto fare una cosa che non facevo da sempre ho dovuto mettere in pausa la produzione su YouTube e per me è stata una cosa difficilissima una cosa che mi ha caricato di ansia in un modo assurdo e che soprattutto lo vedo poi nelle analytics ha dato un colpo micidiale a quella che era la trazione buona del canale però insomma queste cose capitano siamo dopo tutto mortali purtroppo le cose non vanno mai come devono andare l'importante poi è rimboccarsi le maniche e darsi da fare ed è quello che ho voluto fare diciamo perché comunque pur in colpevolissimo ritardo sono riuscito a pubblicare la recensione o l'analisi più che recensione di Tears of the Kingdom appunto uscita in un periodo dove il canale comunque un po' sta zoppicando però non mi interessava ci tenevo troppo anche un po' come dono e ricompensa e ringraziamento verso tutti quelli che hanno saputo aspettare così tanto tra l'altro ho letto tutti i commenti mi fa super piacere che il video vi sia piaciuto ma soprattutto abbia stimolato delle riflessioni molto interessanti c'è stato anche questo ve lo devo dire quando ero ancora un po' raffreddato non ero proprio ancora al top ho registrato un nuovo video acquisti con Shigeru Kachoppo ma non credo che lo pubblicherò perché eravamo entrambi un po' raffreddati si sente poco il microfono insomma non lo so c'è qualcosa che non torna in quel video mi sarebbe piaciuto farlo molto più divertente secondo me non ha le vibes giuste come dite voi giovani però magari lo condividerò con gli abbonati insomma a livello base di Patreon e di Youtube perché comunque è un video di 40 minuti che ho montato, editato dove mostro comunque gli ultimi acquisti fatti in fiera e non lo so mi dispiacerebbe proprio buttarlo così però allo stesso tempo non voglio pubblicare le cose contro voglia quindi mi sa che andrà così a meno che non ci sarà un non lo so un moto popolare dove tutti quanti inciderete alla pubblicazione di questo video che mi sa tanto diventerà una sorta di Lost Records che conosceranno solo i più fedeli oltre a questo c'è stato anche il ritorno delle live con una live notturna per seguire The Game Awards che è andata molto meglio di quello che credevo perché siamo stati per tutto il tempo una media di 300 spettatori con un picco di oltre 340 considerando appunto come vi avevo detto che era un periodo abbastanza in discesa per il canale poi io la live l'ho pubblicizzata pochissimo eccetera 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 non credevo ci sarebbe stato un tale riscontro di pubblico invece è andata molto bene è stato come al solito straemozionante seguirlo con così tante persone soprattutto quando poi realizzo che ci sono in Italia almeno tantissimi altri canali molto più affermati soprattutto per il segmento del just chatting delle live degli eventi eccetera eccetera con cui giustamente gli utenti preferiscono passare la loro serata direi ma in realtà è una nottata e nonostante questo comunque riesco ad alzare dei numeri alle 4 di notte 300 persone per me è veramente assurdo quindi anche qua vi ringrazio tantissimo di Game Awards poi parleremo un attimo per chiudere un po' il punto e niente però prima vorrei chiudere questa cosa sul canale nonostante tutto insomma nonostante il periodo non proprio erosio siamo comunque riusciti a raggiungere i 40.000 iscritti è un numero pazzesco emozionante anche se poi col tempo ho imparato a diffidare di quella che è la soddisfazione che giunge con con il raggiungimento di questi traguardi perché alla fine ho capito che l'andamento sulla crescita su internet sui social eccetera eccetera non solo è totalmente randomica e sfugge dal controllo del creator ma in più è anche una soddisfazione eterea effimera che sfugge e in realtà raggiungere un traguardo come i 40.000 50.000 100.000 significa tutto e niente ed è più che altro un'illusione perché ci sono canali da 100.000 iscritti che fanno magari la metà generano la metà del traffico che genera il mio canale così come ci sono canali con 10.000 iscritti che fanno video che performano nettamente meglio dei miei contenuti quindi è un'arma a doppio taglio e il problema poi questo ve lo dico proprio da creator ormai che ha un po' di anni di esperienza alle spalle non bisogna mai farsi prendere dai numeri perché appunto per ogni momento di estasi e poi ci sono tanti momenti di depressione che sfuggono poi al controllo del content creator quindi io posso fare di tutto e pensare che stia facendo la cosa giusta e improvvisamente il canale smetterà di crescere posso abbandonare i video per una settimana e non so perché l'algoritmo decide di far arrivare a oltre 100.000 visualizzazioni uno shorts è una cosa proprio senza senso e ecco è proprio difficile sono il primo che sbaglia questa cosa ma non bisognerebbe mai giudicare il valore di un contenuto dal traffico che riesce a generare perché comunque è dimostrato che nel 99% dei casi la qualità non c'entra niente ma è soltanto un tipo di feedback algoritmico e nient'altro quindi sono felicissimo che questo progetto continui a crescere che le cose funzionino bene però al stesso tempo non mi illudo ormai sono abbastanza disincantato su quella che può essere la mia crescita qua su YouTube non ci darà mai un'esposizione virale del poro verso però tassello dopo tassello impegno dopo impegno voi ci siete sempre io di sicuro non mi fermo e si va avanti e si vede si vede quello che succede mi piacerebbe ve l'ho detto prima farlo diventare un lavoro a tutto tondo al momento non è assolutamente così non penso ci siano neanche i presupposti per poterlo farlo diventare nel breve termine però chissà magari fra un 10-15 anni riuscirò da adulto ad avere il mio dream job quando probabilmente tutti voi già sarete in pensione perfetto a parte gli scherzi grazie grazie di cuore a tutti quanti e vi dico un po' come mi muoverò nei prossimi giorni allora dicembre è un mese un moscetto per quanto riguarda sia le news che un po' la creazione di contenuti e di solito io utilizzo questo periodo per fare un po' dei listoni di fine anno che è la cosa che fanno poi alla fine un po' tutti quanti quindi mi dispiace se magari alcuni di voi non saranno così interessati però ci saranno più video consigli sugli acquisti e cose del genere pensati appunto per il tipo di utente che si affaccia per le vacanze natalizie su quello che sono gli acquisti per Nintendo Switch o in generale per il mondo dei videogiochi quindi ho in mente un po' di top non solo vabbè la top dell'anno di fine anno arriverà sicuramente non so se arriverà alla flop perché appunto ho giocato tantissimo ma le cose che mi hanno deluso sono veramente poche anzi forse sono due titoli sarebbe un video un po' limitante ma che comunque farebbe discutere tantissimo però di sicuro i poti i port of the year arriveranno soprattutto in un anno dove c'è stata così tanta roba interessante da giocare però ve lo dico l'ho detto anche nei bio di Zelda la recensione di Zelda mi è servita per smarcarmi proprio da questo da questa impasse e Zelda non sarà presente all'interno del video dei game of the year perché è qualcosa che è assolutamente fuori competizione almeno per per quanto mi riguarda inoltre insomma qui sto lavorando parecchio per far crescere il podcast appena ne avrò la possibilità vi comunicherò i prossimi ospiti che dovrebbero arrivare già la prossima settimana spero purtroppo c'è il casino delle vacanze di Natale però ho in mente degli episodi tematici che esulano poi dal semplice ambito dei videogiochi vorrei fare dei discorsi un po' più ampi proprio sul cosa significa parlare di videogiochi su internet su cosa significhi oggi far parte dell'industria giornalistica dei videogiochi e insomma ho un po' di idee interessanti tanto se vi ascoltate questo podcast probabilmente vi piace sentire argomenti noiosi raccontati da una persona che tende a esagerare un po' con il minutaggio quando si parla di cose a cui non frega niente nessuno però insomma grazie grazie a tutti quanti e appunto sto lavorando sul podcast per i prossimi appuntamenti ci saranno un po' di top pensavo di fare una sorta di speciale per i 40.000 iscritti i 50 migliori giochi per Nintendo Switch che diventa poi anche una sorta di guida degli acquisti e comunque secondo me è un contenuto che potrebbe coinvolgere un po' tutti voi perché comunque dentro ci ci si discute parecchio però un video che mi richiederà un bel po' di tempo per essere preparato e vorrei farlo il prima possibile e poi inoltre vi segnalo che questa magari non è una cosa che vi siete magari ve la siete persa un po' per strada ma è ripartito solo risposte sbagliate ma siccome voglio investire parecchio quest'anno anche sulla crescita di Instagram perché vedo dei risultati molto incoraggianti nonostante il bacino di utenza sia molto più ristretto rispetto a YouTube siamo meno di un decimo perché ho circa 3000 follower è tornato solo risposte sbagliate ma diventa un'esclusiva di Instagram dove pubblicherò là dei reels dove vi presento di volta in volta dei giochi fuori di testa pazzerelli e poi dopo nel video successivo decreto un vincitore quello che ha dato la risposta più sbagliata in assoluto quindi se quel format vi piaceva vi intratteneva vi segnalo che c'è già il primo video disponibile su Instagram quindi seguitemi anche là dai che la conquista di internet punto poro purtroppo non può andare solo attraverso un canale bisogna aprirsi più fronti quindi abbiamo il fronte principale che è quello dell'assalto diretto di YouTube poi ci sta la divisione laterale che in incognito le spie che stanno aggredendo anche Spotify e poi abbiamo i paracadutisti che si stanno lanciando su Instagram quindi mi raccomando scegliete voi qual è il vostro ruolo militare preferito più adatto alle vostre capacità e conquistiamo questo internet punto poro ve ne prego credo di aver detto tutto quanto più o meno vorrei un attimo parlare dei game awards perché boh non lo so ripensandoci io sul momento non ho sofferto così tanto la presentazione però poi a mente fredda razionalmente ripensandoci penso sia stata una delle edizioni non so se la peggiori in assoluto ma di sicuro quella che mette in luce di più le problematiche di un evento che non funziona e di un'industria che non so bene che immagine di se stessa vuole raccontare perché in realtà è stato un evento proprio paradossale perché tutta l'idea del questo qua è l'evento pensato per celebrare l'industria il gaming tutte le personalità che hanno lavorato duramente quest'anno per regalarci uno dei migliori anni che la storia recente ricordi nel mondo del gaming tutto questo è mancato perché è chiaramente un carrozzone pubblicitario gestito pure malissimo dove gli stessi award sembrano essere una cosa secondaria da buttare là così tanto per sbrigandosi molti premi sono stati proprio gestiti in fretta e furia e si aveva proprio la sensazione che bisognasse liberarsi di questo peso di timbrare il cartellino e niente cioè farla finire là trovato soprattutto molto rispettoso come è stato gestito il timing degli interventi dei discorsi di ringraziamento non puoi far salire a un'uma sul palco e dopo 30 secondi gli alzi la musica per farlo sta zitto e intanto il gobbo riporta la scritta wrap it up cioè date la mossa chiudila sbrigati non si può fare cioè se vuoi celebrare l'industria se vuoi celebrare 12 anni 12 mesi di grandi traguardi fai parlare quelli che hanno fatto i giochi fai parlare l'industria parla dell'industria che il tutto sia un continuo spottone un continuo infiltrarsi di Hollywood di star di celebrities all'interno di un contesto dove in realtà se vogliamo sentir parlare qualcuno sarebbe bello sentir parlare chi lavora veramente sui videogiochi e non solo chi ci mette diciamo la faccia alla fine a livello pubblicitario non ha senso non ha senso ed è veramente un carrozzone che non è fatto per i gamer i The Game Awards sono diventati esattamente gli Oscar una manifestazione che dovrebbe celebrare un'industria ma che in realtà è diventata autoreferenziale e un po' i confini di interesse nascono e finiscono all'interno dell'evento che è un vero peccato gigantesco tra l'altro c'è stato adesso sto vedendo vi leggo nei commenti c'è questo grandissimo accanimento sul è stato meritato o meno il goti è stato uno scandalo è stato irrispettoso nei confronti di nintendo eccetera eccetera secondo me questa qua è una visione della console war estremamente parziale che lascia il tempo che trova è stato un anno pazzesco ragazzi e è proprio difficile riuscire a dire sì questo gioco è oggettivamente o obiettivamente meglio di altri e così dovrebbe essere premiato esclusivamente quello anche perché mi dispiace dirlo ma solitamente chi dice così è perché ha giocato solo una cosa e quindi o che magari ha un genere preferito e quindi l'action adventure o l'open world lo interessa molto di più di un crpg di un computer rpg o di un classic rpg come può essere baldur's gate 3 hanno tutti i titoli meritevoli di vincere in un modo o nell'altro alla fine qualcuno deve vincere qualcuno deve perdere e ci può stare il dibattito è anche interessante però io non lo prenderei come un affronto personale ma soprattutto come un giudizio qualitativo sui titoli ho visto che molti discutono anche sul fatto del ma fra dieci anni secondo voi parleremo di tears of the kingdom oppure parleremo di baldur's gate 3 non lo so non lo so diamo diamo tempo a questi giochi di sedimentarsi diamo tempo anche a noi di assimilarli come come pretendete come pretendiamo di poter avere una visuale lucida su 12 mesi dove ogni mese c'era qualcosa da giocare assolutamente i videogiochi solitamente durano dalle 20 alle 100 ore cioè non c'è non c'è proprio il tempo per appassionarsi fra poco e quindi non ha neanche senso difendere a spada tratta un'opera piuttosto che un'altra quello che dico è sarà interessante vedere se prendiamo baldur's gate 3 e tears of the kingdom come esponenti massimi dei due generi di riferimento che a questo punto Zelda è ritornato ad occupare lo spazio dell'action adventure sebbene poi di action adventure puro ci sia ben poco o almeno come lo intendo io cioè lontano dai canoni dell'open world sarà interessante vedere come effettivamente questi titoli che sono considerabili come capolavori e come opere che settano dei nuovi standard qualitativi proprio in assoluto sarà vedere quello che ne uscirà dopo perché il valore di un gioco lo capisci anche poi da da quello che inizia a rappresentare all'interno dell'industria dopo Zelda ci sarà ancora spazio per degli open world riuscirà a diventare una sorta di impronta su cui costruire qualcosa di nuovo oppure al punto massimo dove dopo di questo tutto il resto sarà semplicemente ripetizione di già visto stesso discorso baldur's gate 3 io non l'ho giocato però sembra proprio l'apice massimo del classicismo dei gdr un titolo molto più difficile da vendere al pubblico al grande pubblico da spiegare all'infuori dei confini del suo genere molto di nicchia però sembra essere un po' il punto di espressione massima di quelle che sono i confini di un genere ma dopo il baldur's gate 3 che succede? diventerà un nuovo punto di inizio? sarà il canto del cegno di un genere? oppure darà vita a una marea infinita di cloni che aggiungeranno ben poco questo secondo me è la prospettiva più interessante sotto cui analizzare questi The Game Awards e non bisogna scandalizzarsi sulla segnazione dei premi perché poi alla fine veramente ma che ve frega se un gioco vi è piaciuto vi è piaciuto anche se non vince il Game of the Year e anzi avete tutto il diritto di continuare a pensare che sia l'esperienza più bella che avete vissuto negli ultimi anni ma scandalizzatevi più che altro perché il punto massimo di Hype è stato l'ennesimo trailer che non dice nulla di Kojima dove sale sul palco Jordan Peele e Jordan Jonathan mi confondo sempre vabbè regista di Get Out regista di Us regista di Nope che tra l'altro sono tre film che mi sono piaciuti tantissimo Nope l'ho visto pure al cinema Shigeru Kachopo gli ha fatto cagare tantissimo io invece l'ho apprezzato parecchio però il punto massimo di un'industria dei videogiochi è di nuovo il parlare non mostrando nulla insomma io inizio veramente accusarle tanto questo tipo di manifestazione che è un po' l'altra faccia della medaglia del trailer in CGI vogliamo vedere il gameplay vogliamo vedere i giochi vogliamo che si parli dell'industria parlando il linguaggio dei videogiochi che poi possono sì contenere tantissime contaminazioni a livello cinematografico va benissimo ma come ha detto Peele è dai tempi di Metal Gear Solid 2 che giocandoci ho pensato questo è il futuro questo è più di un semplice videogioco e questo è cinema va benissimo a me non mi ha mai disturbato l'impostazione estremamente narrativa di un certo modo di fare i videogiochi però questo non significa che allora se ne può parlare non mostrando nulla o se ne può parlare non parlandone bisogna uscire da questa logica molto commerciale molto pubblicitaria molto pomposa sfarzosa sì c'è sfarzosa penso che sì e non lo so vorrei un po' più di concretezza tra l'altro poi la cosa veramente paradossale per quanto mi riguarda è che sì ok ma magari come manifestazione come premiazione è stata molto deudente e non per come sono stati assegnati i premi ma più che altro proprio per come sono gestito tutto quanto uno show di tre ore che poteva durare 50 minuti e dove comunque non hanno trovato tempo di dare spazio alle premiazioni una cosa veramente assurda ma in realtà è stato forse uno degli anni dove c'è stata più più ciccia sono state presentate tantissime cose super interessanti tanto che poi quando ho fatto il video di cappone delle cose me sono anche dimenticate quindi c'è c'è l'idea di quello che di cui c'è bisogno per far sì che si tratti di una di un bel evento di una bella presentazione solo non può essere tutto diluito all'interno di quintali e quintali di pubblicità sketch di cui non ne frega niente a nessuno e continuo ripetersi che non lo so è tutto perfetto va tutto benissimo poi in un momento dove in realtà l'industria sta collassando su se stessa quindi insomma questi sono un po' i miei pensieri conclusivi sui The Game Awards state presentate tantissime cose super interessanti neanche poi così tanto lontane nel tempo il 2024 sarà un'altra grande annata probabilmente non ai livelli del 2023 ma comunque ci sarà Switch 2 potrebbe essere ci sarà Final Fantasy ci saranno un sacco di cose che almeno per come sono fatto io proprio mi mi catturano e mi rendono impaziente di quello che sarà di quello che sarà l'anno videoludico però questo entusiasmo secondo me c'era era presente all'interno dei Game Awards però veramente a sto punto tanto vale guardarsi il riassuntone il giorno dopo evitarsi la nottata perché proprio non è stata forse l'edizione che più mi ha deluso in assoluto pur non essendo la peggiore quindi questo la dice lunga sarà che Jeff Keighley non aveva delle scarpe abbastanza pacchiane però è andata è andata così ah e comunque godo come un riccio che Alan Wake si è portato a casa i premi che secondo me si meritava di portarsi a casa e ci sta comunque questa è l'ennesima dimostrazione che sono premi che non hanno il minimo riscontro all'interno di quello che poi è il vero mercato videoludico così come tutti i festival del circuito cinematografico vanno ad assegnare dei premi che poi non incontrano minimamente il gusto del pubblico sono convinto che Alan Wake 2 non potrà mai avere la potenza dirompente a livello commerciale di uno Zelda di un Baldur's Gate di uno Spider-Man ma di un qualsiasi altro gioco rimarrà comunque una produzione fortemente autoriale e fortemente di nicchia però porca miseria se qualcuno se ne rende conto se anche solo una persona guardando Sam Lake che riceve il premio rimane incuriosita e pensa ma sì ma fammi scoprire che qual è l'etica lavorativa che c'è dietro questo team Remedy fammi scoprire un po' la storia di Remedy io godo tantissimo e spero che veramente questo qua sia un punto una nuova rinascita e un auspicio per un futuro Rosio fatto non dimentichiamocelo di un expanded universe che cresce a vista d'occhio e quindi incorporerà nel futuro Control 2 i remake di Max Payne insomma per me veramente siamo nella migliore tempo linea possibile e godo godo tantissimo mi dispiace per Nintendo che si è beccata tra i contentini tanto per mi dispiace tantissimo per Onuma che è stato trattato come l'ultimo degli stronzi cosa che proprio non aveva non aveva alcun senso però daje per Sam Lake daje per la Finlandia e daje per tutti i fratellini ingiustamente incarcerati nel Dark Place di Alan Wake e a proposito di Dark Place luoghi oscuri eccetera eccetera parliamo un attimo di The Day Before allora non ci credo che non avete seguito questa cosa perché è uno degli scandali del momento questa produzione che viene sponsorizzata e lanciata tantissimo dal 2021 più o meno forse anche prima che era uno di quei progetti chiaramente super pompati senza alcun motivo che destinati a fallire e che hanno diciamo hanno mantenuto alto l'interesse perché si sono ritrovati forse anche casualmente forse chissà non penso ci sia nulla di programmatico dietro però si sono ritrovati a generare molto più interesse di quello che avrebbero mai potuto fare se non fossero stati spinti poi così dalla stampa e dalla curiosità morbosa di vedere un prodotto del genere che è un po' la storia del capolavoro che esce fuori dal nulla il gioco che è fatto da un team sconosciuto che deve riscrivere completamente tutti i ranghi dei generi deve riscrivere le logiche dell'industria eccetera eccetera ma sono delle storielle che magari potevano funzionare appunto nei primi anni 90 ai primi anni 2000 quando effettivamente un team come Remedy che veniva dalla scena di hacker della finlandese e riusciva a mettere in piedi un motore grafico che proprio faceva impallidire tutte le grandi produzioni di AAA oggi al giorno d'oggi non può essere così perché fare videogiochi costa tantissimo le produzioni AAA hanno dietro studi giganteschi sia in termini di risorse di personale di tempi di lavorazione ci sono 10.000 cose quindi fatto che è un team praticamente sconosciuto di cui se poi andai a vedere lo storico ci stavano solo mezze ciofeche un team minuscolo riuscisse a creare l'MMO definitivo che poi amalgamava tantissime delle suggestioni più in voga del momento era proprio una favola stupida a cui credere e effettivamente poi si è creato questa situazione dove il titolo è stata una grandissima scam è uscito e dopo 5 minuti che è uscito anzi dopo 3 giorni e mezzo che è uscito lo studio si è dato a gambe elevate chiudendo i battenti e interrompendo il supporto all'early access che era stato garantito sostanzialmente quindi un po' possiamo metterla così hanno intascato i soldi su steam perché poi comunque il refund e il risarcimento si può chiedere solo entro le prime due ore di gioco e a quanto pare il tasso di rimborsi è soltanto del 50% di tutte le copie acquistate quindi insomma si è creata una situazione dove questi tizi hanno preso i soldi e sono scappati la cosa interessante però io l'ho ridotta proprio all'osso ma perché secondo me non ha senso poi parlarne più di tanto ci sono dei video molto interessanti a riguardo che ripercorrono in ordine cronologico tutto quello che è stato la la genesi la pubblicità che c'è stata intorno la campagna marketing che c'è stata intorno a The Day Before e poi quello che poi è stato un grandissimo fiasco a livello produttivo ci sono dei video interessantissimi se parlate inglese vi potete vedere riassuntone di Spawn Wave proprio preciso puntuale secco che vi spiega bene tutto quello che è successo è uscito qualche ora fa un video dei Player Inside di Raiden che anche lui in modo un po' più accessibile soprattutto in italiano racconta anche dal suo punto di vista di quella che è stato poi il giornalismo l'approccio del giornalismo italiano racconta tutto quello che è successo di nuovo in ordine cronologico molto molto interessante anche divertente perché poi Raiden è un grande però io la cosa che proprio non capisco è questo voler cioè tolta giustamente la sfera di informazione io inizio ad essere proprio stufo della ridondanza di informazioni su YouTube e di approccio poi in questo inizio ad esserne stufo proprio perché mi rendo conto di essere parte del problema e cerco sempre una strada alternativa a quello che può essere il mio approccio alla creazione di contenuti su YouTube però ragazzi adesso siamo stati invasi da 100.000 video tutti uguali di gente che per il meme ti fa vedere che sta giocando a The Day Before e si fa effettivamente schifo non lo so ecco secondo me su questo topic ci starebbe bene anzi spero venga fatto il prima possibile un bel blob videoludico di Gekigemu perché qui secondo me stiamo raggiungendo delle ridondanze di opinioni proprio pazzesche perché non c'è più neanche la voglia della scusa del parlare sempre delle stesse cose dicendo vabbè una recensione devo capire se questo gioco fa per me o meno cioè vuoi semplicemente vedere gente che spala merda su un titolo che di per sé è evidente faccia già schifo ma proprio perché è documentato c'è tutto il ci sono video appunto super competenti super professionali che ti raccontano tutto quello che è successo chiaro questa questa situazione quindi non so bene cosa cosa ne possa uscire fuori nel momento in cui si viene a constatare che effettivamente sono stati due anni di comunicazione ingannevole di finto wipe ma non solo da parte dei giornalisti anche Nvidia a un certo punto diciamo associato alle sue tecnologie di ray tracing di LSS in titolo come l'ha fatto anche per Atomic Heart associato The Day Before quindi boh non so veramente tutta questa appendice questo post fregatura questa questa grande scam dove dove ci possa portare boh la trovo proprio una cosa sterile e è proprio per questo che secondo me la vera scammata dell'anno la vera fregatura è il fatto che nessuno stia parlando del fatto che è stato ufficializzato proprio in queste ore che Free Radicals Design chiude i battenti e più di 80 persone rimangono con senza posti di lavoro ed è una storia tristissima è una storia tristissima perché non stiamo parlando dello studio dei due peragottari che ci hanno provato hanno raccontato una frottola per due anni e poi sono scappati con qualche soldo e tra l'altro immagino che di tutti questi acquisti dei B4 il 70% sia di gente che ha acquistato il gioco per farci il video sopra e poi ha subito richiesto indietro il rimborso però ecco questa secondo me è una cosa che dovrebbe far discutere e su cui bisognerebbe discutere tantissimo anche visto la direzione in cui sta andando l'industria Free Radicals Design era uno studio che era stato rimesso in piedi nel 2021 specificatamente per rivitalizzare e rebuttare l'IP di Time Spritters Time Spritters ve l'ho detto più volte ve lo ripeto anche questa per me è tipo la miglior serie di sempre di FPS diciamo che io l'era del Nintendo 64 non me la sono vissuta in prima persona quindi non ho vissuto negli anni 90 l'esplosione degli FPS su console grazie a GoldenEye grazie a Perfect Dark ma nella generazione successiva ho conosciuto questo tipo di gameplay questo tipo di multiplayer in split screen che mi manca tantissimo tramite le opere dei Free Radicals che tra l'altro erano tutti ex dipendenti Rare che avevano fondato questa nuova compagnia e in cui lo spirito di GoldenEye di Perfect Dark e via dicendo riviveva nella serie Time Spritters il primo gioco era un titolo molto acerbo il secondo era un capolavoro il terzo era un gioco carino ma l'apice proprio contenutistico le cose funzionavano sul serio veramente bene sul secondo capitolo e porca miseria quando Embracer Group che è questo grandissimo agglomerato ha iniziato a comprare spendere creare nuove aziende nuove divisioni eccetera eccetera ha investito un capitale enorme per rimettere in piedi i Free Radicals che erano una compagnia morta penso nei primi anni 2000 dopo gli insuccessi di AIDS qualcuno di voi se lo ricorderà su Playstation 3 e anche dopo la chiusura la cancellazione anzi di un progetto di Star Wars mi sembra Battlefront rimettono in piedi uno studio con il compito specifico di rebuttare Time Spritters tra l'altro i nuovi capi dei Free Radicals erano gli stessi fondatori originali c'erano solo segnali positivi in tutto incredibile però che succede che negli ultimi non mi sembra un sei mesi fa Embracer Group ha cannato lo dico proprio alla buona poi insomma vi potete informare in modo più più preciso e certosino di quello che vi posso dire io in questo momento c'è stato tipo un affare di due miliardi di dollari che è andato in fumo all'ultimo istante crollo delle azioni casino totale bisogna ristrutturare tutta quanta tutto l'agglomerato Embracer Group e quindi che succede quando ci stanno questi grandi agglomerati che comprano tantissime realtà pensate anche quello che è successo con Microsoft che ha comprato sostanzialmente mezza industria videoludica questo significa che però queste piccole realtà perdono anche parte della loro indipendenza da una parte questo può essere una cosa ottima perché appunto vengono stanziati fondi vengono date risorse per far sì che questi studi abbiano una sorta di indipendenza creativa ma allo stesso tempo se questi agglomerati decidono bisogna ristrutturare tutto perché non ci stanno più soldi non è che si ragiona bene su quello che si può fare no cadono le teste gli studi vengono chiusi e la gente viene mandata a casa quindi immaginatevi sotto Natale 80 persone che tra l'altro stavano lavorando bene stavano insomma rispettando le deadline i progetti eccetera eccetera sono state considerate come vittime sacrificabili di una ristrutturazione che negli ultimi mesi aveva già mandato a casa oltre 900 dipendenti tra sparsi tra tutti i vari studi sotto l'ombrello Embracer Group questo è veramente un peccato poi se vi andate a leggere al di là del fatto che mi dispiace tantissimo che probabilmente l'IP di TimeSplitters a questo punto non so sarà di nuovo morta però fa sempre molta impressione vedere tutte queste persone che rimangono da un momento all'altro sotto poi il periodo natalizio senza lavoro ci sono degli enti regolatori che in teoria hanno fatto sì che ci fossero delle garanzie per il licenziamento eccetera eccetera però insomma immagino che per quanto poi magari questa gente riesca a reinserirsi nel mondo del lavoro perdere in questo modo e poi non per propria colpa il posto di lavoro non sia proprio la cosa migliore in assoluto e secondo me bisognerebbe parlare con molta molta più attenzione con molta più serietà di queste dinamiche perché sono in realtà sintomatiche di un'industria che non funziona di un'industria appunto che si racconta come un grandissimo una grandissima industria dove ci sono girano tantissimi soldi dove è vero che girano tantissimi soldi dove ci sono delle produzioni mostruose ma dove però poi ci sono dei buchi clamorosi e soprattutto mancano proprio i diritti basi dei lavoratori e molto spesso tutto il lavoro che c'è dietro queste grandi produzioni si perde nel nulla si perde nel nulla più totale perché appunto poi sono tutti considerati pedine sacrificabili gente che scompare nel nulla da un momento all'altro se un progetto non funziona niente si cancella tutto mi dispiace che venga spostata tutta l'attenzione su un gioco meme che sembra quasi che l'hype che si è creato nel corso degli anni sia stato fatto solo in funzione di questo momento dove ora tutti quanti possono spalare merda su un titolo che non solo fa schifo ma è molto peggio di quello che ci saremmo aspettati ma in realtà non è affatto così perché mi sapevano tutti che avrebbe fatto schifissimo e la vera sorpresa sarebbe stata se effettivamente The Day Before fosse diventato un'incredibile MMO straambizioso eccetera eccetera cosa che ovviamente non è stata è un peccato che si parli di questo in modo anche un po' memetico e non si non si ragioni effettivamente su quella su quelli che sono i sintomi più preoccupanti di un'industria che dà sempre più dimostrazioni di essere di crollare un po' su se stessa quindi investimenti giganteschi o non dimentichiamoci soprattutto tutti i clamorosi dietro fronte che ci stanno in questo periodo per quanto riguarda i live service i gas i game as a service questo entusiasmo incredibile che ora sta sbanendo nel nulla ma un entusiasmo che non era condiviso dagli utenti ma solo da quelli che dagli investitori che hanno visto che Fortnite nel 2016 andava forte e a un certo punto tutta l'industria si è dovuta omologare su un modello di business che evidentemente non può crescere così tanto e non può incorporare così tante realtà diverse è un'industria che inciampa in continuazione e dove si girano i soldi ma girano evidentemente nel modo sbagliato quindi non lo so fossi in voi mi informerei un po' di più su tutto quello che sta succedendo in questi giorni all'interno dell'industria se siete appassionati dei videogiochi dovete anche rendervi conto di quello che succede a chi crea i videogiochi leggo sto leggendo adesso ora il titolo di un articolo che dice è stimato che oltre 9000 posti di lavoro all'interno dell'industria dei videogiochi sono andati persi quest'anno licenziamenti dentro Unity ByteDance Embracer Group Epic e Amazon ma ci sono altre compagnie che hanno visto insomma dettagli importanti di personale sono stati gli Xbox Game Studios Sony Interactive Entertainment ricordiamoci che sta succedendo un casino con Bungie e tutto il problema di Destiny ci sono stati problemi dentro CD Projekt dentro Ubisoft dentro Riot Games Blizzard Crystal Dynamics Electronic Arts insomma tutta l'industria non si salva c'è una bella crisi e ne ripagano poi insomma i tasselli fondamentali che sono gli sviluppatori che sono gli artisti che sono i mestieranti che però spariscono poi completamente quando c'è da narrare quelli che sono i grandi traguardi dell'industria ecco forse mi sarebbe piaciuto che venisse accennata questa cosa durante i The Game Awards ma forse non non era nel tempo nel luogo di fare una cosa del genere rip a Time Speeders scoprite questa serie se non l'avete mai giocata io ve la straconsiglio e credo di aver parlato anche troppo no no è giusto è giusto è giusto vi ho aggiornato un po' su tutto quanto vi ho detto quello che arriverà nei prossimi giorni e niente colgo l'occasione per ringraziarvi ancora nuovamente per essere arrivati fino in fondo anzi lanciamo un gioco se siete arrivati fino in fondo scrivete nei commenti un video o un podcast da Poro Aura così capirò che siete tra i tra i fedelissimi che sono arrivati fino alla fine niente ragazzi io vi ringrazio tantissimo spero di riuscire a dare una cadenza un pochino più regolare a questo podcast fatemi sapere nei commenti o anche nelle domande di Spotify se ho capito bene se vorreste vedere insomma qualcosa di più strutturato all'interno di questo podcast vi leggo sempre tutti nei commenti seguitemi su Instagram io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questo PoroCast ma soprattutto vi do appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà voi nel frattempo mi raccomando fate bravi riposatevi dormendo soni tranquilli ma soprattutto nerdate duro io sono il Poro Poro Michele Cast ciao ehi 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 fermo se questo tipo di video ti piace prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Porion il Patreon dei Poracci con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto come retroscena anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa a Grazie a tutti.